Primo incontro dopo circa un mese con il candidato a sindaco va alle prossime amministrative del comune di Castellabate, Domenico di Luccia, per cominciare a parlare del programma politico e delle priorità. Un programma politico diviso in tre macro aree, programmazione, innovazione e sostenibilità. Uno degli obiettivi del candidato a sindaco, Domenico di Luccia, è quello di sfruttare tutti gli incentivi disponibili per valorizzare la risorsa principale che ha la comunità, i giovani. E' proprio dai giovani che ha voluto iniziare la programmazione. Oltre al candidato a sindaco, Domenico di Luccia, ospiti in web conference Costabile di Sessa, giovane imprenditore turistico di Castellabate, Catina Tortora, componente associazione Raffaele Tortora, per ascoltare le loro richieste, le difficoltà che quotidianamente un giovane può incontrare per incamminarsi nel mondo del lavoro. E a conclusione ad intervenire Giuseppe De Nicola della Fondazione Ampioraggio Partner Invitalia, l'Agenzia per lo sviluppo d'impresa, che ha dato delle linee guida su come il territorio di Castellabate potrebbe migliorare attraverso azioni concrete. Un programma io pongo tre grandi macro aree, che sono i giovani, lo sviluppo turistico del territorio e lo sviluppo sostenibile. Partiremo questa sera dai giovani, perché sono loro i veri protagonisti del futuro, ma sono il cuore pulsante del presente e quindi sono loro che devono essere valorizzati, sono loro che devono avere la giusta espressione di valorizzazione e un'amministrazione deve partire proprio dai giovani. Bisogna cambiare il ruolo della pubblica amministrazione e in modo particolare del comune. Il comune non deve essere più inteso come un'entità astratta, ma deve diventare un ente capace di attrarre risorse, soprattutto per i giovani, per fare in modo che questi possano restare e non andare. La prima azione che assumerò, il primo obiettivo che vorrò intraprendere da futuro sindaco di Castellabate è quello di creare a Castellabate lo sportello per le attività produttive. Castellabate deve essere autonomo nella gestione delle pratiche inerenti alle attività produttive, soprattutto quando queste riguardano le attività imprenditoriali legate al mondo turistico, legato a quello e dell'agricoltura, legato a quello della pesca. Bisogna fare in modo che la pubblica amministrazione si avvicina alle esigenze reali del territorio e non venga percepita come un ostacolo. Vi sia collaborazione fra enti e non conflittualità fra enti sovracomunali come spesso avviene. Penseremo anche ad un nome adeguato per fare in modo che possa essere già d'impatto il nome per dare risposte concrete, reali e vicine alle esigenze dei nostri concittadini. Ho pensato di inserire nel programma la realizzazione di un brand che vada a caratterizzare, queste poi le tematiche che valorizzeranno e saranno alla base di questo brand, lo affronteremo quando parleremo della tematica turistica, però alla base di questo brand che noi vogliamo e in cui crediamo vogliamo dare compimento è che l'amministrazione non solo si deve essere vicina alla nascita di nuove attività imprenditoriali, ma deve essere pure esigente, cioè deve puntare alla qualità e quindi puntare alla qualità significa ad esempio valorizzare l'opportunità di far conoscere agli imprenditori, ai giovani imprenditori che si apprestano e si avvicinano al mondo del lavoro la necessità di conoscere una seconda lingua e quindi qual è l'impegno che mi posso assumere, che ci assumiamo già fin da ora? È quello di creare una scuola di inglese e la renderemo obbligatoria per tutti gli imprenditori turistici e soprattutto per i giovani imprenditori turistici che si apprestano ad avviarsi ad aprire un'attività imprenditoriale sul nostro territorio, la conoscenza ad esempio delle norme di primo soccorso, una cosa fondamentale per un territorio turistico e quindi ritorna a quel discorso che dicevo prima di giusta correlazione tra l'offerta turistica e l'offerta occupazionale di un territorio.